Benvenuti al MAJOR, la scuola che non c'era ora c'è. Al MAJOR nel nome c'è il progetto. MAJOR significa di più e questa è una scuola che consente ai propri studenti di studiare meglio e in maniera diversa. Il MAJOR prende spunto da una frase di Plutarco che dice che i giovani non sono vasi da riempire ma lanterne da accendere e il nostro scopo è proprio questo, far appassionare gli studenti, far sì che per loro la scuola rappresenti un momento bello, un momento nel quale crescere e pensare al futuro. Il MAJOR nasce sul modello del college, del college americano, perché consente agli studenti di conciliare le loro passioni, lo sport, la musica, l'arte con la scuola ad alto livello. Il MAJOR è attento alle passioni dei propri studenti perché così come la scuola consentono la crescita completa della loro persona. Al MAJOR infatti uniamo la tradizione con l'innovazione. Per noi la tradizione è mettere al centro ognuno dei nostri studenti, prestare loro tutta l'attenzione che meritano e unire questo ad una grande dose di innovazione, di tecnologia che ci consente di fare una didattica nuova, moderna ed interessante ed appassionante per i nostri ragazzi. Al MAJOR abbiamo un liceo con quattro indirizzi di studio, classico, scientifico, scienze umane e sportivo. I nostri indirizzi rispettano il programma ministeriale ma sono personalizzati grazie alla quota di autonomia a disposizione di ogni scuola e così il percorso che i nostri ragazzi fanno al MAJOR diventa un percorso unico grazie alla personalizzazione che otteniamo con un catalogo di corsi aggiuntivi a loro disposizione. I nostri ragazzi infatti la mattina studiano le materie tradizionali alle quali aggiungiamo un potenziamento dello studio della lingua inglese con un insegnante madrelingua e al pomeriggio scelgono un corso aggiuntivo proprio come nel sistema anglosassone che scelgono in un catalogo nel quale sono presenti tantissime proposte per esempio corsi di economia, finanza, marketing, giornalismo, scrittura creativa, professioni dello sport, neuroscienze, corsi di lingue inglese, tedesco, spagnolo. Insomma tutto quello che può aiutarli a crescere come persone ma anche a guardare al futuro. Noi vogliamo che i nostri ragazzi pensino al futuro, si orientino nelle scelte universitarie ma facciano anche il percorso per poter accedere alle migliori università, alle università alle quali ambiscono e quindi mettiamo loro a disposizione anche corsi di logica per prepararsi ai test e tutto quanto necessario per raggiungere i propri obiettivi. Al MAIOR da quest'anno c'è anche una grandissima novità. Abbiamo la scuola media paritaria perché ci siamo resi conto da tutte le analisi sul sistema scolastico italiano che la scuola media è l'anello debole del nostro sistema e abbiamo deciso quindi di accettare anche questa sfida. Abbiamo una scuola media moderna, innovativa, super tecnologica con un laboratorio di scienze, di robotica e di coding unico e anche qui presentiamo ai nostri ragazzi un'offerta straordinaria perché anche alla scuola media di mattina svolgiamo il programma ministeriale potenziato anche qui con lo presenza di un insegnante madrelingua e al pomeriggio i nostri ragazzi possono scegliere di fare sport oppure musica oppure logica e coding. Da quest'anno c'è un'altra grandissima novità presente sia alla scuola media sia al liceo. I nostri alunni potranno scegliere anche il nostro programma internazionale realizzato insieme a una prestigiosa società che organizza soggiorni studio all'estero ed è Bell International grazie alla quale abbiamo fatto un progetto perché alcune discipline si studino in inglese e il percorso possa essere completato con una o due settimane di soggiorno studio all'estero durante l'anno scolastico. Insomma gli studenti che scelgono il MAIOR scelgono una scuola che li prepara per il futuro, li prepara per affidare, per affrontare al meglio le sfide che un mondo complesso, globalizzato impone e per essere all'altezza del loro futuro. Il MAIOR è la scuola più bella che c'è!